La 33esima edizione dell'indagine sulla qualità della vita del sole 24 ore, pubblicata oggi lunedì 12 dicembre, certifica la leadership di Bologna, seguita sul podio da Bolsano e da Firenze. In Toscana sono tre le province presenti in cima alla classifica, oltre al capoluogo di regione la new entry Siena, che arriva al quarto posto, e Pisa al decimo posto. Purtroppo non va bene per Pistoia, ultima tra le toscane, al 64esimo posto su 107, in rimonta però di nuove posizioni rispetto all'anno scorso. La migliore performance di Pistoia riguarda il settore agrituristico, che la vede al settimo posto in Italia. La voce peggiore invece è quella che riguarda i servizi per gli anziani, che vede la provincia ultima nella classifica nazionale. I 90 indicatori statistici alla base dell'indagine, di cui 40 aggiornate al 2022, quest'anno hanno tenuto conto anche di indicatori sull'inflazione, su energia da fonti rinnovabili, riqualificazioni energetiche e consumi energetici, l'indice della partecipazione elettorale alle ultime elezioni politiche di settembre 2022. Ci sono poi anche nove indici che aggregano più parametri, qualità della vita di giovani, bambini e anziani, delle donne, ecosistema urbano, indici della criminalità, sportività, clima, ICT rank sulle città digitali. Si confermano alcuni indicatori storici dell'indagine, valore aggiunto pro capite, prezzi delle case e incidenza dei canoni di locazione sul reddito medio dichiarato, imprenditoria giovanile, inattività dei giovani sia nel campo dell'istruzione che del lavoro, ore di cassa integrazione ordinaria, infortuni sul lavoro, indice della qualità dell'aria, tasso di motorizzazione, indice di litigiosità nei tribunali, mortalità da incidenti stradali, numero di bar, ristoranti, librerie e palestre agriturismi, indice di lettura verde urbano, banda larga ultraveloce, amministratori comunali Ander 40.